Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua pronti ad andare ad iniziare la nostra terza stagione con ormai l'ex BMW perché è diventata Delco, quindi la nostra terza stagione della carriera manageriale ragazzi appunto cambio sponsor, siamo con la Delco, quindi un ritorno perché comunque la Delco c'era anni fa anche storia abbastanza recente, credo 2-3 anni fa c'era come squadra noi ragazzi vi ricordo che siamo entrati in World Tour, quindi siamo una squadra World Tour finalmente abbiamo dei nuovi arrivi come Adam Yates, come Darren Rafferty, Timo Chielic, arrivi molto molto buoni, Leo Bisiot quindi siamo pronti, ci ha fatto un altro step in avanti Prio Crollan che ora montagna a 80 quindi diventa ancora più forte, vi ricordo che siamo arrivati mi pare secondi nella vuelta vincendo la maglia verde con lui attenzione a Prio Crollan perché ora con montagna a 80 può dir la sua ci ha fatto uno step in avanti anche Noah Ops che è diventato uno sprinter da 79, non è male ragazzi vi spiego un attimino gli obiettivi dei nostri corridori anche abbastanza brevemente, vediamo quelli dei migliori insomma Adam Yates mi farà giro e vuelta, gli obiettivi principali sono quelli per Adam Bastien Tronchon mi farà, a differenza dell'anno scorso che avevo mandato sia Lorenz che Tronchon in picco di forma nelle Ardenne Tronchon mi farà la Sanremo, qua ci sono un po' di corsi in più che non farà ovviamente mi farà la Sanremo perché lui è molto forte in discesa e può dir la sua poi mi andrà al Giro d'Italia, mi farà anche il Delfinato e poi attenzione perché abbiamo un grande obiettivo, il mondiale il mondiale è fatto bene per i francesi, vi ricordo che noi credo che andremo a controllare la Francia perché siamo passati da squadra tedesca a squadra francese, penso che andremo a controllare la Francia quindi mondiale adattissimo, gli ho messo piccoli insomma, mi farà il Giro d'Italia ragazzi poi di altra gente interessante c'è Seixas che mi farà il Tour de France insieme a Briucroland perché Rolland lo portiamo al Tour de France ragazzi, puntiamo al Tour con Rolland perché con questo Montagna 80 già la Vuelta mi è arrivato secondo insomma si punta al podio al Tour de France con Briucroland ragazzi gli diamo Paul Seixas come Gregario Darrell Rafferty andrà al Giro d'Italia alla Vuelta come co-capitano di Adam Yates perché è molto forte, al limite può anche andarmi come Gregario insomma si vedrà, la strada deciderà stessa sorte gli facciamo fare a Brenner che anche lui farà il Giro d'Italia a Vuelta in aiuto di Adam Yates e di Rafferty Noah Hobbs mi fa il Giro d'Italia a Vuelta perché sono quelle con più volata, soprattutto il Giro d'Italia quindi mi andrà a fare le volate al Giro e alla Vuelta insieme a lui gli abbiamo dato anche Timo Chielic anche lui molto interessante da andare a vedere perché gli ho messo un picco un po' bizzarro perché mi farà le classiche in Pavè ho tolto la Roubaix perché serviva il giorno di riposo qua e poi mi andrà al Giro d'Italia ovviamente la Roubaix la farà però l'ho tolta dal picco di forma perché mi serviva il giorno di riposo perché poi lo voglio al Giro d'Italia come uomo che lancerà la volata a Hobbs tanto per la Roubaix abbiamo anche altra gente perché lui pavè a 75 abbiamo gente già un po' più forte se non è Rofizke che è già a 76 gli manca un po' di resistenza e combattività però vediamo c'è anche il buon Sante Sentience anche lui molto buono per le classiche lui ha più resistenza quindi attenzione ragazzi che abbiamo una bella squadra veramente molto molto bella direi che dei migliori vi ho detto un pochettino tutto sì vi ho detto più o meno tutto manca solo Laurence ecco giusto Axel Laurence mi andrà a fare le Ardenne quindi Tronchon mi farà la Milano Sanremo insieme a mi pare la Pariginizia sì la Pariginizia se non erro mentre invece Laurence sarà il mio leader delle Ardenne puntiamo tutto su di lui credo sia anche l'unico col picco di forma la Liegi ho sbagliato ho premuto per sbaglio su Liegi sì comunque l'unico col picco di forma puntiamo facciamo un all-in per le Ardenne su Laurence poi mi andrà il Tour de France ovviamente essendo francese e attenzione anche lui per il mondiale che insieme a Tronchon saranno i miei due qua abbiamo anche il Giro delle Miglie a Gran Piemonte ma vi dico già che ho chiesto l'invito ci hanno rifiutato come sempre ma va bene così quindi ragazzi oggi cosa andiamo a vedere? andiamo a vedere il campionato australiano perché abbiamo Robert Sannard in picco di forma ed è tra i favoriti è da solo però è tra i favoriti guardate perfetto eccolo ok pensavo che me l'avessero revato perché ho controllato prima di fare il video è tra i favoriti Robert Sannard quindi attenzione attenzione possiamo provare a far bene già l'australiano e poi in questo episodio vorrei vedere alla veloce tanto andiamo con una squadra abbastanza pessima qua mi ha messo Adam Yates questi qua ma credo che li leverò andiamo con una squadra di secondo livello andiamo a vedere brevemente il Down Under poi magari si può fare una live non lo so dove ci andiamo a vedere l'UAE Tour e la Omelope forse sì forse in settimana aspettatevi magari una mini live sarà veramente corta dove andiamo a giocare UAE Omelope queste due corsettine qua magari ci buttiamo dentro anche le strade bianche perché a video le strade bianche non mi piace molto registrarlo perché ogni tanto mi tocca levargli i tifosi insomma a bordo strada perché se no non me la via il mio pc lo sapete non ho un gran pc potente poi sicuramente Parigi inizia e Tirreno la vedremo a video quindi nulla ragazzi direi che possiamo andare a giocarci il campionato australiano con il nostro Robert Sannard vediamo cosa succede e proviamo a portarci a casa la maglia di campione nazionale australiano da soli sarà dura però noi ci proviamo ed eccoci qua nell'ultima salita ragazzi con il nostro Robert Sannard che ci deve provare allora ragazzi non lo so tra l'altro Robert Sannard è stato anche in fuga perché ragazzi ho pensato che la fuga potesse arrivare eravamo solo in una settantina alla partenza sapete che di solito anche al campionato australiano ci arriva la fuga stavolta non è non è così quindi facciamo attenzione con Robert Sannard non ha troppe energie quindi dobbiamo fare un pochettino d'attenzione Sannard che deve provare ora a recuperare un filino perché mi aspetto a breve un attacco non ci sono attacchi ragazzi stranissimo stranissimo addirittura rallentano e allora proviamoci noi con Robert Sannard proviamo ad andare via con Robert Sannard vediamo non ha funzionato non ha funzionato non ha funzionato poco convinto Sannard e a questo punto bisogna aspettare la volata invece parte Hopkins parte Hopkins quindi Sannard deve provare a rimanere qua ci siamo quasi ragazzi ci siamo quasi al punto X dove Sannard deve provarci parto già adesso forse troppo presto vediamo Sannard vediamo Sannard Sannard che si fa passare all'ultimo ragazzi da Kat e Groves si porta a casa il campionato australiano non dovevo forse provare quell'attacco mannaggia me va bene così pazienza andiamo ora al down under quindi si porta a casa il campionato australiano Groves noi arriviamo decimi con Sannard peccato se avessi avuto magari un compagno purtroppo gli australiani abbiamo solo lui va bene così andiamo al down under ragazzi eccoci qua ragazzi alla partenza del down under questa qua è la nostra squadra perché alla fine tengo sia Ops Kielic e Adam Yates anche se non hanno il picco però ci sta vedendo il loro programma possono farmi il down under va bene ragazzi questa è la nostra squadra perché Sannard la forma sta diminuendo cioè lui ha il picco in queste corse qua e diminuisce la forma vabbè ragazzi siamo tra i favoriti con Ops quindi le volate dovremmo andarle a vedere le volate dedico proprio gli ultimi 3 km alla veloce dedicherò di più sulla collina perché vorrei finire il down under in questo episodio quindi ragazzi andiamo direttamente alla volata con Noah Ops ragazzi siamo già nel pieno della volata perché mancano 2 km e 3 non siamo messi benissimo neanche troppo male mettiamola così ho fatto partire mi sa i miei troppo presto eh sì ragazzi ho fatto partire i miei troppo presto quindi nulla da fare madonna dominio già tutti lì davanti niente ragazzi lo sapete le volate sono un po' il mio punto debole purtroppo lo facciamo notare anche qua perché arriviamo soli sedicesimi male male va bene dai ragazzi ci può stare solo sedicesimo il nostro Noah Ops vince Matthews li ho lanciati troppo presto lo so è stato un errore mio però ragazzi eravamo un po' chiusi ho dovuto farlo va bene così dai pazienza noi puntiamo alle tappe collinari di questo down under andiamo alla prossima tappa ecco questa qua è una tappa molto adatta a noi è collinare non è durissima però questa è la classica tappa perfetta per Noah Ops ancora meglio di quella di prima infatti ragazzi Noah Ops lo equipaggiamo con le cose aerodinamiche ma per la verità lo equipaggio tutta la squadra le cose aerodinamiche sapete aero 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 applica tutta la squadra voglio le cose aerodinamiche perché secondo me ci sta quindi andiamo direttamente nel finale credo ci proveremo con Noah Ops 2 km all'arrivo ragazzi ci siamo siamo pronti a provare a far bene con i nostri vediamo Robert Stannard davanti attenzione ad Adam Yates che perde un attimo la ruota di Robert Stannard non va tanto bene infatti sapete che c'è facciamo già passare Adam Yates facciamo già passare Adam Yates tanto dovrebbe essere abbastanza tranquilla la situazione Robert Stannard ancora davanti che fa ritmo e pazienza Adam bravissimo due chilometri ragazzi due chilometri due chilometri leggera salita tra l'altro il gel mi stavo scordando Robert Stannard vai tranquillo allora calma qua c'è una situazione abbastanza delicata perché dobbiamo capire che è ora il momento di partire vediamo vediamo stavolta li ho lanciati bene li ho lanciati bene tutti e tre davanti Kieric Kieric ancora davanti forse Ops lo passa a lui ultimo e vince Noah Ops davanti a Timo Kieric e Adam Yates ragazzi uno due tre il podio è tutto nostro ci rifacciamo alla grande dalla volata di prima è andata molto molto male ci rifacciamo così con un due tre clamoroso grandissimo risultato per la Delco e allora che debutto in maglia Delco con un uno due tre clamoroso al down under in questa tappa super super Noah Ops che si aggiudica la tappa e guardate qua siamo primo terzo e quarto nel mezzo c'è Calibiuan che ha vinto la prima tappa va bene così siamo anche primi dei giovani ovviamente anche primi della squadra visibilità per ora dieci mamma mia che risultato in questa tappa prossima tappa dovrebbe essere una volata quindi sarà difficile andiamo a giocarci proprio sempre gli ultimi tre chilometri e proviamoci con Ops ragazzi cinque chilometri all'arrivo una volata stranissima piena di queste curve non si riesce ad andare avanti ragazzi io non so cosa fare perché è veramente una volata molto molto strana farei già passare Markle sinceramente perché mi sento un filino troppo lungo vediamo l'obiettivo è lanciare Ops se non si riesce lanciamo Kjelic che vi devo dire però volata veramente molto molto strana caotica per queste continue curve che durano già dai meno dieci più o meno anzi forse anche meno quindici che ci sono queste curve allora proviamo con Markle vediamo Markle un chilometro e nove un chilometro e nove fatemi vedere ci sono ancora curve non sembrerebbe però proverei comunque a scattare proverei comunque a scattare scattiamo ora vediamo Ops scattiamo adesso con Ops vediamo ragazzi vediamo Kjelic Ops Ops ancora davanti spuca fuori Virgen e Gennier Gennier ci ruba la tappa però Ops comunque fa un grandissimo secondo posto Adam quarto Kjelic quinto quindi comunque è arrivato un altro altri bei piazzamenti da questi tre il problema è che ci ha fregati Gennier ma va bene così comunque può essere buono per la maglia a punti per Ops il secondo posto quindi vince Gennier Ops secondo vediamo per la maglia a punti allora intanto Ops è sempre davanti a tutti Ops è primo nella maglia a punti quindi va bene con Kjelic secondo e quarto Adam Yates quindi non è affatto male va bene così dai tutto sommato ci va bene anche se ci è scappata la vittoria di veramente pochissimo prossima tappa mi pare ultima volata c'è ancora una volata poi due tappe collinari per finire questo down under eccola qua infatti ultima volata andiamo anche qua negli ultimi chilometri e proviamoci con Ops siamo negli ultimi 4 chilometri ragazzi qua siamo di nuovo nel difficile perché perché sì lo sapete come funzionano quale volate ragazzi purtroppo finiscono sempre abbastanza in tragedia tra l'altro Kjelic non è in scia di Adam Yates è dietro ragazzi la vedo la vedo onestamente difficile per questa volata molto difficile anche troppo ragazzi vi dico la verità anche troppo difficile proviamo ad accelerare con Adam attacchiamo con Adam attacchiamo con Kjelic vediamo Ops lo lanciamo adesso attenzione che più o meno siamo venuti fuori bene siamo venuti fuori bene Molano c'è sempre uno che ci frega ma va bene così perché un altro secondo posto per come si era messa la situazione va molto bene per la maglia punti è veramente ottimo quindi ok ci sta purtroppo troviamo anche qua Molano più forte di noi ma va benissimo questo secondo posto di Ops e il settimo di Kjelic vanno più che bene infatti in classifica generale mantiene la testa Noah Ops e soprattutto mantiene la testa nella classifica punti il nostro Noah Ops tra l'altro Kjelic è anche secondo Adam e terzo per i giovani sempre Noah Ops a comandare la squadra ci supera la Total Energy ragazzi ultime due tappe collinari ma prima vi voglio chiedere una cosa quest'anno come al solito vedremo cioè in questa stagione come al solito vedremo un grande giro in live e altri ovviamente li porto in video ora il Tour de France lo porterò in video siccome Giro d'Italia e Welta si ripetono i corridori perché sarà sempre Adam Yates Rafferty Brenner e Ops saranno sempre loro i protagonisti sia di Giro che di Welta quale volete vedere voi in live quale preferite che portiamo in live tra Giro e Welta ve lo chiedo a voi quindi mi raccomando scrivete qua sotto quale vi fa piacere vedere in live se preferite il Giro o la Welta decidete voi ragazzi comunque uno dei due si vedrà in live ragazzi siamo tra i favoriti tra Adam Yates cioè siamo tra i favoriti con Adam Yates andiamo per questa tappa proviamo a far bene tra l'altro è entrato in forma ora Benedict Benz un po' troppo tardi ma poi tanto abbastanza inutile perché lui è quel giovane che abbiamo preso l'unico che abbiamo preso dallo scouting nella scorsa stagione quindi deve crescere ancora però è abbastanza buono a cronometro Benz può diventare un buon cronomen speriamo che venga su abbastanza velocemente comunque andiamo alla fine della tappa proviamoci con Adam ragazzi ci siamo quando mancano 4 km inizia l'ultima salita ovviamente puntiamo su Adam però attenzione anche a Chielice stanno tutti bene stranamente stanno tutti bene perché Adam Chielice e Ops vi ricordo che non hanno il picco di forma per questa corsa ragazzi proviamo a prendere in mano noi la situazione con Yes Maris vediamo un po' come va raga vediamo un po' come va avrei anche voglia di provare un attacco sinceramente però perché rischiare tanto siamo noi i leader della classifica generale perlomeno con Ops allora non so se continuare a fare un po' di forcing perché al momento non sembrerebbero essere intenzionati a passarci cioè sembrerebbe che questo ritmo vada bene però raga io me la vorrei rischiare un pochettino sapete me la vorrei rischiare un pochettino per mettere quel guizzo quel guizzettino a questa tappa vediamo un po' se riusciamo ad andare via con tutta la squadra ragazzi tentativo da parte dei nostri con gli smaris attenzione che qua ci riusciamo qua ci riusciamo però dobbiamo staccare Ops ragazzi dobbiamo staccare ah no sono già entrati in scatto però sto gioco ragazzi sto gioco sto gioco che fa entrare in scatto troppo presto non riesco a mettere a 90 ragazzi va bene gli smaris ha fatto un super lavoro ancora standard davanti eh dobbiamo stare attenti dobbiamo stare un pochettino attenti 700 metri 600 partirei ora parte anche Chieli c'è parte ora Adam Yates vediamo ragazzi vediamo ragazzi Adam Adam ancora davanti e ce la fa Adam Yates si va a prendere forse la tappa più dura di questo down under con Barta secondo Standard Barta secondo però Standard terzo quarto Chielic Maris sesto Hobbs mannaggia a me dovevo dargli di attaccare ma tanto non aveva più il rosso dovrebbe comunque Hobbs aver salvato la maglia di leader della classifica generale ragazzi altra super tappa con Adam Yates che se la porta a casa davanti a Will Barta Standard terzo quarto Chielic sesto Maris e Noah Hobbs trentesimo che salva credo la classifica generale vediamo infatti Noah Hobbs ancora davanti con soli due secondi di vantaggio su Adam Yates 16 su Timo Chielic quindi il podio per ora è dominato dalla Delco vediamo di mantenerlo nell'ultima tappa stessa cosa nella maglia verde primo secondo e terzo con Hobbs che ha la maglia verde giovani Hobbs ovviamente ancora primo Delco siamo primi di team ovviamente ragazzi che down under che stiamo facendo anche inaspettato perché si mi sono portato comunque corridori buoni ma tutti che non dovevano avere picchi di forma ce lo vedete Adam Yates è all'86% va bene così non mi lamento insomma ragazzi ultima tappa tra l'altro questa mi pare di vedere la salita finale anche un filino più tranquilla quindi potrebbe essere adatta a Noah Hobbs non gli metto i componenti aerodinamici perché comunque è un arrivo in salita va bene così ragazzi andiamo a provare a difendere il podio perché abbiamo tutto il podio da difendere con la nostra Delco andiamo ragazzi e ci siamo ragazzi ultimi chilometri di questa tappa con Benz che sta dando tutto per tenere davanti il nostro treno ma direi che ora si deve far da parte 7 chilometri e mezzo cavolo manca ancora un po' alla fine occhio non iniziare già troppo presto con il nostro ritmo più che altro però rimaniamo forse un filino troppo chiusi forse adesso è il momento di provare a venire fuori con Robert Stannard e lo fa lo fa Robert Stannard bravissimo 4 chilometri e 3 dalla fine Robert Stannard viene fuori per tirare su il nostro trenino grande lavoro di Robert Stannard attenzione a Chielic che è di nuovo un filino messo peggio rispetto a Yes Maris che è messo da dio Yes Maris super Yes Maris oggi attenzione ragazzi attenzione diamo tutti quanti il gel ormai ci siamo ragazzi 2 chilometri e 3 Robert Stannard praticamente fa lui fa lui tutto Robert Stannard bravissimo si sposta ora anzi sai che c'è ma mi va in scattoto così o meno se riesce a prendersi un piazzamento si sa mai Yes Maris qua a provare a pilotare Chielic che però Chielic non ne ha molto proviamo a partire ora parte ora anche Chielic parte ora Adam e vediamo ragazzi Yes Maris che forse si va a prendere la tappa no arriva Narvaez che credo ci batta si ci batte il nostro Yes Maris che era in splendida forma in quest'ultima tappa Yes Maris arriva secondo Adam Yes arriva terzo credo che comunque abbiamo vinto il Down Under credo con Ops credo con Ops che giunge nono quindi un bel piazzamento credo che abbiamo difeso il podio va bene così due vittorie ma sempre piazzate in tutte le altre tappe quindi direi che abbiamo fatto un super Down Under un super debutto con la maglia Delco fatemi sapere se vi è piaciuto questo debutto la maglia come non è che mi piaccia molto preferivo la maglia BMW però che debutto che siamo riusciti a fare allora Narvaez si va a vincere questa tappa però vedete classifica generale Adam Adam quindi si si prende lui la vittoria è vero grazie a secondi da buono Ops secondo terzo Kielic quindi gran risultato podio dominato dalla Delco classifica scalatori non ci è mai interessata classifica punti Ops Adam e Kielic quindi difendiamo il podio anche qua nella classifica punti se la porta a casa Ops Ops si vince anche i giovani ciclisti quindi la maglia bianca e vinciamo anche la classifica squadra abbiamo dominato questo Down Under solo due vittorie che poi solo su sei tappe due vittorie e tanta roba quindi va benissimo ragazzi lo vedete abbiamo dominato il Down Under va benissimo così fatemi sapere appunto se vi è piaciuto questo debutto ragazzi vi ricordo qua nei commenti ditemi quale grande giro volete vedere in live ripeto il Tour de France no lo vediamo video perché ci sono differenti protagonisti quindi o il giro d'Italia o la Vuelta fatemi sapere qua nei commenti quale preferite insomma vi ricordo anche che prossimo appuntamento potrebbe essere una mini live in settimana dove ci andiamo a giocare Y Tour Caderevans Great Ocean Race la Omelope e magari anche le strade bianche perché strade bianche non lo so non le voglio giocare a video perché ripeto magari devo mettergli la grafica al minimo quindi è pure brutto quindi magari ce la giochiamo in live queste corse qua sarà una live non troppo lunga anche perché all'UI Tour se non erro a Ops non me lo porto e ci sono tante volate che skipperemo quindi dai non sarà una live lunghissima ripeto fatemi sapere qua quale grande giro volete vedere in live fra giro e vuelta se vi è piaciuto questo video un bel mi piace iscrivetevi al canale se non vi siete già iscritti vi ricordo sempre che gli abbonamenti sono attivi sono 1,99€ quindi se vi abbonate grazie grazie mille e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao